Se avete mai provato a scrivere in giapponese o comunque in qualsiasi lingua non latina su Linux saprete probabilmente che non è così intuitivo come sembra. Quindi in questo tutorial imparerete in particolare a digitare in giapponese ma la stessa procedura va bene anche per il cinese, per il coreano e altre lingue non latine. Quindi, cominciamo! Per questo tutorial ho scelto di usare Xubuntu 1804 ma la stessa procedura può essere usata anche per altre distribuzioni. Cambiano un po' i nomi dei pacchetti magari però sostanzialmente i programmi che ci servono sono sempre gli stessi. Quindi, innanzitutto, non è essenziale ma installiamo il Package Manager grafico su apt install Synaptic Ok E apriamolo Quindi, Synaptic Ora I pacchetti che ci servono sono Cerca Serve FCTX che è il framework che useremo Trattino Mosque Mosque è l'input method per il giapponese Se voi, invece, state cercando qualcos'altro Ad esempio, lo state cercando per il cinese Si chiama San Pijin, mi sembra Mentre per San qualcosa Mentre per il coreano è Angal Ora, noi cerchiamo soltanto FCTX Così possiamo vedere anche tutti gli altri Eccoci qua Qui abbiamo una lista di tutti i pacchetti E... Mosque È quello che ci serve a noi Ok E vedete che installa tutte queste cose Ok, macchia Poi ci serve ancora Se vogliamo il... Dove? Se vogliamo il cinese Abbiamo San Pijin Mettiamolo E installerà anche questi pacchetti Se vogliamo il coreano Mettiamoci anche Angal Ok Installa Ora Se siamo su questa versione di Ubuntu Nessun problema Ma sulle versioni precedenti E soprattutto su distribuzioni come Arch Linux Non abbiamo alcuni pacchetti che ci servono Per esempio Ci servirà anche FCTX GTK 2 Per abilitare il framework anche su... Su GTK 2 GTK 3 Se avete insomma applicazioni grafiche che sfruttano GTK 3 E Qt 5 Credo che questo qua sia il più importante dei tutti Quindi installate anche questi qua Quindi FCTX Qt 5 Qua c'è già E lo possiamo vedere andando a cercare Qt 5 Eccolo qua Qui in particolare non si chiama FCTX Qt 5 Ma si chiama Lib FCTX Qt 5 Quindi è un po' diverso Come dicevo prima Ma presta poco è la stessa cosa Cercate soltanto FCTX E guardatevi tutti i pacchetti E lo trovate Ok Quindi Ora Applichiamo Anzi Prima se vogliamo Li possiamo anche cercare qualche font in giapponese E li marchiamo per l'installazione Non è necessario Ci sono già installati Se non le trovate È perché In questo caso io avevo Cerca soltanto nel nome Li metto descrizione e nome Dovrebbero Ok E qua E abbiamo tanti altri font Quindi se non vi piace quello standard Preinstallate insomma Cercavatevene Oppure scaricatevene in line Sarà lo stesso Funzionano Ok Abbiamo bisogno di scaricare 69 MB di archivio Applica E aspettiamo che venga installato tutto quanto Ok ha finito Quindi Ora possiamo chiudere Synaptic Non ci serve più E proviamo a vedere Se funziona Quindi Apriamo Un terminale Ok E proviamo A A scrivere Ma non funziona Ovviamente dobbiamo Prima avviarlo Quindi Non è attivo FCTX E va configurato Soprattutto Quindi Gli diamo ancora FCTX Configuration Eccoci qua Quindi Ora Qui abbiamo Tutti i vari input method Di FCTX Quello che ci manca È giapponese Abbiamo infatti Solo l'italiano Come aggiungerlo Qui al fondo C'è un più In basso a sinistra E possiamo aggiungere Un input method Quindi cerchiamo Giapponese Che non c'è Non c'è Perché abbiamo Questa spunta qui Mostra soltanto Il linguaggio corrente Togliamola E noteremo Tutti gli altri linguaggi Tipo Il chihuahua No Chihuash Non so cosa sia Beh Comunque Cerchiamo un mosque Quello che ci interessa a noi Quindi mosque E Ok Ora ne abbiamo due Come facciamo Per switcharli? Allora Si va sulla Global Config Qui a destra E troviamo Trigger input method Che è il control space Quindi con control space Noi cambiamo Il Tra italiano E giapponese A me non piace Mi metto Super space Mi trovo più comodo E Chiudi Ora proviamo a scrivere Quindi apriamo Un terminale E Super space Mosque Italiano Mosque Proviamo Te Funziona Fantastico Fantastico Quindi Se proviamo ad esempio A scrivere Kitsune Kitsune funziona Soltanto che Se vogliamo Kitsune Scritto in Kana Ok Se non vogliamo Il kana Chiacciamo tab E possiamo scegliere Le varianti Insomma I suggerimenti che ci sono Quindi io Usano Kanji Kitsune E quindi funziona Se devo continuare a scrivere Continuo a scrivere Quindi Mi sono Riecompletata Direte No Non è ancora finita Perché ad esempio Se noi adesso invece Apriamo Kate O se vogliamo Scrivere qua Qua non funziona Perché Non è Funziona Semplicemente Non switcha Come dobbiamo fare Allora Innanzitutto Riproviamo anche su Kate Ok Eccoci qua Uno switcha Perché Perché Dobbiamo Abilitare Le PM Environments Quindi Dobbiamo creare Un file Sulla nostra Home E lo chiamiamo Crea documento File water Punto Pam Environment Questo è tipo La formula segreta Per farlo funzionare E Non c'è Perché I file sono nascosti Quindi In questo caso Visualizzazione Mostra file nascosti E vado su Pam Che non lo trovo più Ok Quindi Punto Mi raccomando il punto Pam Environment Apriamolo Qui dentro Ci dobbiamo Scrivere Tre righe Che io copierò E le trovate Al fondo del video E sono Xmodifier Default Quindi Lui mette come default Per l'Xserver Correggetemi se sbaglio Sctx Poi anche per Gtk Per applicazioni Gtk E in Qt Quindi Salviamo Salva E ora Dobbiamo Importantissimo Logarci Fuori Logout Ok Rientriamo E Proviamo A scrivere Quindi Non funziona Non funziona Perché dobbiamo avviarlo Quindi Fctx Di nuovo E lo abbiamo avviato Lo vediamo qui a destra Che è attivo Ora riproviamo Super space E funziona Funziona Yatta Funziona Ok Fantastico Perché non funzionava prima Perché dobbiamo avviarlo Ma se noi non abbiamo voglia di avviarlo ogni singola volta Nel caso di xfc Noi andiamo su Impostazioni Session e startup Avvio Avvio Applicazione in autostart In avvio automatico E qui al fondo Se non troviamo Fctx In questo elenco Troviamo add Quindi aggiungiamo E lo chiamiamo Fctx Comando da utilizzare O lo scriviamo a mano O lo andiamo a cercare Quindi cartella File system User Bin E cerchiamo Fctx Eccolo qua Trovato Ok E lo troviamo qui al fondo Quindi al prossimo avvio Automaticamente Fctx Si avvierà Se invece di xubuntu Avete altre distribuzioni La procedura è simile Dovrebbe esserci Sulle impostazioni Avvio automatico Applicazioni con avvio automatico E poi le ritrovate Automaticamente avviate Come dovrebbe essere Insomma E basta Questo è tutto La tecnica per scrivere Giapponese Su Linux E' questa E se avete provato Anche a scrivere In altre lingue Siete riusciti Con altri esempi Con il cinese Con il coreano Io non li conosco Quindi non so bene Come funzioni Scrivetelo nei commenti Scrivetelo in cinese In coreano Per far capire Che l'avete capito E Niente Spero vi sia stato utile Il video E Ci Se avete richieste Se non vi funziona qualcosa Scrivetemi pure Sono Francesco Yoshi Bye bye